Oggi andiamo a parlare di un prodotto che ha un rapporto qualità prezzo top 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 Parliamo delle cuffie, queste qui, Music Sound, Maxi 2 è il modello, eccole qua, ve le faccio vedere è un prodotto che vi metto il link per acquistarle anche su Amazon che ha un ottimo rapporto qualità prezzo, vi dico che parliamo intorno ai 25, 20, 25 euro di prezzo andiamola a vedere insomma così Allora all'interno della scatola troviamo solo ed esclusivamente il cavetto per andarla a caricare poi abbiamo il librettino di istruzioni e eccole qui Allora queste cuffie strizzano molto l'occhio a dei brand blasonati che conosciamo tutti molto bene però vi devo dire che esteticamente sono molto carine Il sistema di spugna qui ai lati di imbottitura va molto a diminuire il suono esterno quindi non ha un sistema attivo di diminuzione di suono però funzionano molto bene queste spugnettine Vi faccio vedere, ha le bacchettine laterali regolabili Eccolo qui Il suono lo attutisce molto quindi queste spugne sono fatte molto molto bene Il design è carino, vabbè ma come vi ho detto somiglia a un marchio blasonato che si trova in giro a prezzi esagerati Hanno un collocamento bluetooth quindi si collegano bluetooth La plastica, sentite, è una, si percepisce al tatto che è una plastichetta insomma non è piacevole al tatto Ha la possibilità di rispondere e attaccare al telefono di mandare avanti e mandare indietro la musica di alzare ed abbassare il volume tramite questi pulsanti fisici qui Sentite, sono proprio pulsantini fisici Ha l'attacco per la ricarica con l'USB di tipo C quindi anche i caricatori quelli da cellulare si possono usare tranquillamente Per caricarla ci vogliono un paio d'ore un paio d'ore per caricarla e la cosa bella è che ha la possibilità di avere 20 ore di autonomia di ascolto della musica La qualità del suono è molto buono Addirittura ha un sistema per non fare distorcere i suoni e funziona perché anche se ne andiamo a mettere al massimo volume vi assicuro che non distorce mai I bassi sono profondi ma non esagerati Insomma un buon prodotto Ah mi dimenticavo anche questa parte alta alla spugnettina, all'imbottitura Tra le funzioni come vi dicevo ce n'è una che è simpatica che dà la possibilità di collegare due cellulari alle cuffiette quindi eventualmente potremmo con un cellulare andare ad ascoltare la musica o un computer bisognerebbe vedere che loro dedicano due cellulari però secondo me anche con un computer si può fare quindi metti caso con un telefono andiamo ad ascoltare la musica e con l'altro telefono collegato andiamo a rispondere e attaccare se ci chiamano oppure possiamo ascoltare la musica con il telefono di un amico che sta già ascoltando la musica e andare a collegare il nostro per utilizzarlo per rispondere quindi una funzione carina questa qua è l'istruzione ah l'istruzione vi ci dedico un secondo solamente per far vedere che sono fatte molto bene dietro c'è tutto lo scritto ma davanti per renderle intuitive vedete? hanno fatto tutta una descrizione grafica quindi è abbastanza intuitivo anche capire le funzioni che hanno queste cuffie è un prodotto economico funziona molto bene non lo so ve lo consiglio vi lascio il link in descrizione se lo volete comprare se lo volete comprare su Amazon se già lo avete acquistato fatemi sapere voi come vi state trovando tutto qui grazie a tutti 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 grazie a tutti